Benvenuti all'Institut Superforti Pesano! Noi siamo una cooperativa, un'azienda della distribuzione alimentare di natura cooperativa. Nasciamo oltre 50 anni fa in provincia di Ancona, dove abbiamo tuttora la nostra sede. La nostra realtà distributiva è costituita quindi da un centinaio di punti vendita, gestiti da soci. Per la quasi totalità sono distribuite nelle varie province delle Marche, una decina sono invece presenti in Abruzzo. Per la prima volta con questo Superstore di Pesaro ci affacciamo nella provincia di Pesaro e ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di punti vendita. Oggi siamo qui a Pesaro, abbiamo riqualificato questa zona che ultimamente era leggermente degradata quindi abbiamo fatto questo bellissimo punto vendita e speriamo di essere a contentare tutti i clienti di Pesaro di questa zona. È un supermercato di 1500 metri quadri con tutti i reparti freschi molto assistiti. Abbiamo tanti prodotti locali e quindi vogliamo entrare all'interno della città di Pesaro offrendo un grande servizio e mostrare quello di cui siamo capaci. L'azienda del territorio, infatti la sede centrale a Camerata Picena, è un'azienda inserita molto nel contesto marchigiano, nel contesto regionale e quindi noi vogliamo portare avanti come punto vendita di Pesaro questa storia.